Ciao, ciao a tutti! La cosa più importante che impariamo ogni giorno è che abbiamo qualcosa da imparare. Bellissima questa frase, l'ho raccontata stamattina quando ho finito di fare un web meeting dove abbiamo presentato una soluzione, secondo me veramente innovativa, per gestire tutta la corrispondenza tra le aziende e il cliente finale in digitale. Buon mercoledì, concentrazione, concentrati in azione!